30.000 mascherine protettive, gel, salviette per le mani sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bari in 22 comuni della provincia, compreso quello di Bitonto. Oltre 100 ai militari che hanno effettuato perquisizione a tappeto in 30 attività commerciali in cui i titolari, i cittadini sia italiani che cinesi, sono indagati per aver commercializzato igienizzanti detergenti spacciandoli per disinfettanti con simboli e nomi ingannevoli e senza le adeguate etichettature del Ministero della Salute e dell'Unione Europea che li classificano come biocidi. Ma non solo, a questo si aggiungono anche delle mascherine chirurgiche acquistate ad appena 10 centesimi e rivendute a 6 euro con un rincaro rispetto al prezzo di acquisto fino al 6.000%. I commercianti hanno approfittato dell'attuale contesto emergenziale che sta interessando il nostro paese per la diffusione del coronavirus. Il valore commerciale della merce sequestrata supera i 200.000 euro. Le prequisizioni sono state precedute da un attento screening da parte dei reparti del primo gruppo di Bari di alcune imprese operanti nei settori della produzione di cosmetici, commercio all'ingrosso cinesi, che hanno poi rivenduto al dettaglio un loro prodotto, ma anche attraverso note piattaforme di e-commerce, di saponi, detersivi, erboristeria, che offrivano gel e salviette igienizzanti per mani presentandoli con scritte e messaggi pubblicitari tipo virus KO, come prodotti con azione disinfettante a prezzi decisamente più alti rispetto a quelli praticati prima dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre le fiamme gialle hanno riscontrato anche su segnalazione di alcuni clienti che alcune farmacie per massimizzare il guadagno avevano acquistato maxi confezioni di mascherine per poi metterle in consumo dopo averle riconfezionate in singole bustine trasparenti. Alcuni commercianti per questo sono stati sanzionati per violazione delle disposizioni del codice del consumo. Grazie a tutti.